Il nuovo Vescovo di Avellino, Monsignor Arturo Aiello, ha questa mattina incontrato la stampa. Non faccio programmi, non sono un politico, ha spiegato il presule. Si è detto però preoccupato per l'assenza di lavoro che spinge tanti giovani a lasciare la loro terra e a costruirsi una vita altrove. Il suo compito sarà quello di dare speranza e se proprio si deve partire, allora si deve anche tornare. Il mio compito è proprio quello di tessere la speranza, dicendo a questi giovani che la terra, la nostra terra, non li manda via e se dovessero partire per una emergenza speriamo che possano tornare. Vorremmo che le intelligenze si valorizzassero in loco e non fossero costrette ad emigrare. Questa terra ha bisogno dei suoi giovani. Io tra l'altro vengo da una terra dove ci sono interi paesi che si stanno spopolando. Non so se è anche la vostra condizione. Questo dice tristezza e assenza di futuro. Ovviamente per i giovani il lavoro è pane, non solo, ma è anche rose, è anche realizzazione professionale. Mi auguro, affido a loro questa speranza, i giovani ne sono portatori naturalmente, che anche andando lontano possano avere un corridoio di ritorno.